Dal Vangelo secondo Luca Ed ecco, in quello stesso giorno, il primo della settimana, due dei discepoli erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa undici chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Egli disse loro, che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino? Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose, solo tu sei forestiero a Gerusalemme. Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni? Domandò loro, che cosa? Gli risposero, ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo. Come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crucifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati tre giorni da quando queste cose sono accadute, ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e non avendo trovato il suo corpo sono venuti a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non lo hanno visto. Disse loro, stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano, ma essi insistettero, resta con noi perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro, non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via quando ci spiegava le scritture? Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme dove trovarono riuniti gli undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano, davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Parola del Signore Ancora la liturgia non segue Matteo, il Vangelo dell'anno, ma fa una deviazione, diciamo così su questa pagina bellissima e anche molto nota di Luca, quella dei cosiddetti discepoli di Emmaus, i due che delusi vanno verso questo villaggio di cui ancora non conosciamo l'esatta posizione. Ci sono tre località in Terra Santa che si contendono il luogo di Emmaus, ma non è tanto importante sapere dov'è, è molto importante invece ascoltare il racconto. Tra l'altro San Luca ci rivela il nome di uno dei due, Cleopa, ma non ci rivela l'altro nome, chi era l'altro, qualcuno diceva la moglie di Cleopa, qualcuno diceva San Luca, ma forse è più bello pensare che non ha messo il nome proprio perché dobbiamo mettere, devo mettere il mio nome. Sono anche io quel discepolo che cammina a volte sfiduciato, a volte con tante angosce, con tanti dubbi, con tante domande, con tante delusioni e non si accorge che di fianco c'è Gesù, come non si sono accorti loro. E Gesù, è molto bello questo, come prima cosa, li ascolta. Cosa sono questi discorsi che state facendo tra di voi? Si fermarono col volto triste, ecco, ascolta le loro angosce, ascolta la loro delusione, è bellissimo, loro gli raccontano la sua storia, gli raccontano che lui è morto, gli raccontano come loro hanno visto infranti i loro sogni di gloria, del regno di Dio. Ecco, prima di tutto il Signore ascolta, prima di dirci delle cose il Signore ci ascolta, si mette, come dire, a fare spazio nel suo cuore, al nostro cuore, alle nostre lacrime, alle nostre fatiche. Ma poi il Signore parla e dice stolti e lenti di cuore, noi diremmo testoni e ritardatari, come siete tardi, come siete lenti, a capire e a credere in ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava, quando si dice non bisognava nel Vangelo vuol dire, ma non era questo il progetto di Dio che il figlio, che il Cristo pattisse. E cominciando da Mosè e da tutti i profeti vuol dire, dentro le scritture di Israele, quelle che noi chiamiamo l'Antico Testamento, Gesù spiega, spiega le scritture. Senza la scrittura non si può capire Gesù, non si può capire il senso della sua vita e della sua morte e della sua risurrezione. Poi arriva la sera con quella bellissima invocazione che è stato il soggetto di tanti canti, resta con noi Signore, poiché si fa sera, il giorno sta finendo e si ferma con loro, resta con noi Signore quando scende il buio nella vita, resta con noi. E allora dentro a quella locanda Gesù fa quei gesti a loro familiari, spezza il pane e quando spezza il pane i loro occhi si aprirono, nel senso che finalmente l'hanno riconosciuto in quel gesto che gli aveva lasciato nell'ultima cena come il segno della sua presenza e lui sparisce perché è fatta, hanno capito, l'hanno riconosciuto. Allora fuggono nella notte, non hanno più paura, ritornano indietro, ritornano a Gerusalemme, ritornano nella comunità da cui erano scappati, delusi e tornano a dire l'annuncio di Pasqua, abbiamo visto il Signore, l'abbiamo riconosciuto nello spezzare il pane e trovano che anche la comunità è lì a dire davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone, l'hanno visto, l'hanno toccato, hanno mangiato con Lui. San Luca ci sta dicendo ogni volta che fate l'Eucaristia, ogni volta che il Signore vi spiega le scritture, ogni volta che spezzate il pane, potete riconoscere Gesù e potete camminare con Lui nella vita. Un grande dono.